ciao ragazzi di Quiranderos qui Alberto e Andrea ciao cioè come quella volta stiamo doppiando una sessione di streaming orribile e cosa faceva benissimo non andava niente quel giorno non andava niente perché non ci facciamo un video su come fare come non fare dei live di streaming perché è stato fantastico qui qui un problema dopo l'altro siamo partiti e non ci si sentiva io che è grazie a un fan ci faranno anche le magliette che si guardano la maglietta noi lo ringrazio perché quando mi entrava l'audio nelle cuffie ma se l'hai segnato su vai maglietta per Giacus mi si promette a Giacus la maglietta che non ti daremo mai ovviamente non abbiamo i soldi per fare le magliette sono cose che in live si dicono poi ci si vede a cena mi alzo e mi casca eccolo guardate che buche dall'alto durante la live siamo inguardabili una roba guarda c'era verso cioè levato dal pianistallo non mi andava quindi dopo l'audio dopo l'audio e non riuscivo non riuscivo a tenerlo fermo è sparito è sparito è sparito ho tagliato tutte le bestemme ti metto le mani sul muso è un po' nervoso quel gioco ora si riparte? ora si parte col gioco bellissimo tra poco è bellissimo è durato uno sputo è durato uno sputo il grande momento tra l'altro del gioco il portone ci ha fatto di fare senti il cabello qui ora va tutto è perfetto stai buono eccolo a parte viene tutto a parte quelli quelli veri sudamericani poi ci siamo qui eccoci qui si parte con i problemi mi devi di quando ci sei però eh qui c'era lo share play intanto lo trovavo l'incordatura del green screen via si parte si parte ora forse ora ce la facciamo no 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 è un'altra volta andate più oggi non c'è mezzo è ricascato il green screen mamma mia che tragedia altro momento fermo poi c'è altro momento fermo eccoci non c'è mezzo disperazione qui si parte si sta scappando dal mostro si sta scappando dal mostro momento critico eh qui si va si sta ricorrendo che dobbiamo scappare qui si è allargato l'avevo vista questa guarda questa guarda problemi in pista eccomi preoccupatissimo perché stava accadendo l'impossibile qui si è piantato tutto questo l'ho lasciato perché si era piantato tutto torno subito torno subito qui si è raffiantato tutto è una roba allucinante si riparte per la quarta volta sì anche io qui là l'eco ti sei accetto però ma io penso che vada bene sì sì va bene accontentiamoci questa connessione del microfono questo microfono ritrova tutte le pese quello che è su Amazon la rabbia che monta rabbia che monta a livello di 10 mili è più stabile capito non dovrebbe perdere segnalamente non dovrebbe non dovrebbe proprio qui era un giochino senti che c'è l'eco no no dicevi no e io davo cercavo di dare è tutta la colpa a te ti dicevo no è colpa tua perché io c'è tutto perfetto certo come sempre ho speso miliardi è quello che tu hai fatto via di sopra e noi questa è l'idea si guarda il culo cioè qui no qui io mi ricordo non c'era qui ero disperatissimo però eravamo in live capito quindi cercavo di tenere un tono c'era sempre il nostro fan c'era sempre il nostro fan che diceva provate a fare questo questo quell'altro no niente 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 non c'era verso qui passa il tempo io ho tagliato forse ero io ah ecco aspetta perché siccome sto per condividere no ero io andrea ecco devo fare le accuse lo vedo le accuse di morte vi avete uno sguardo trovato ma poi qual è che era 40 minuti 40 minuti di nulla di niente poi si riparte ecco e ora forse ci siamo è peggio si parte peggio quanti hai messo i miei tonti eh non levate tante qui non vi ricordo c'è sempre il fruscio il fruscio ecco qui c'è il fruscio e qui mi sono sparito la voce io all'improvviso io che va ad inizio insomma adesso io lo sento allora senti il fruscio si cazzà vai cazzà quando non vanno le ose qui si parte però tutto a posto tutto a posto perfetto qui ci siamo finalmente finalmente ci siamo proviamo proviamo non ce la faccio più non ce la facciamo più eccoci bello questo lamento eccoci dei giochi di lavoro eh che c'è la cosa dalla chat grazie troppo guarda 12 un ero ero cazzato lo spoglio spacca tutto guarda 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 come sbuffa volevo spacca tutto il gioco perché è connesso alla playstation eccoci sempre con quei volumi vuol dire che esci dalle cupie e entra nel microfono eccoci quel fa mia vero il problema tuo ecco non so perché andrea il microfono non funziona più nulla senti senti io voglio doppio comunque se stai parlando non ti senti come si sente chiaro non si sente niente come smanetta e vabbè e vabbè ragazzi è finito così è finito così insomma alla fine abbiamo finito la sessione si abbiamo finito la sessione non si è mai fatto quel giorno lì è andata così è andata così non ce la facevamo a fare in età non si riusciva a risolvere niente poi insomma abbiamo capito gli errori non era colpa mia non era colpa tua era tutta colpa mia alla fine era un'impostazione di OBS sull'audio pensa un po' te strano eh ti avrei mai detto va bene ragazzi dai saluto speriamo di avervi far strappato due risate questo è tutto quello che non dovete fare cioè provate bene prima degli streaming bene bene ma bene come si fa noi no? ora abbiamo imparato no ora è vero abbiamo imparato ci si mette mezz'ora prima si prova e soprattutto si lascia tutto come si lascia tutto stato ma tanto sai che forse c'è qualcosa e tanto sì l'imprevisto c'è sempre comunque adesso siamo liberati ciao ragazzi Alberto e ciao Andrea ciao ragazzi a tutti i curanderos ciao